La Regione Siciliana è alla ricerca di 21 esperti qualificati per sostenere l'amministrazione regionale nella gestione di procedimenti complessi con un focus particolare sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all'interno del Piano Territoriale della Regione Siciliana adottato dall'Aggiunta. I professionisti interessati che soddisfano i requisiti richiesti sono invitati a partecipare alla selezione entro il 20 novembre 2023, previa registrazione sul portale INPA al sito www.inpa.gov.it. Le figure professionali cercate sono diverse e mirano a coprire una vasta gamma di competenze. I dieci profili professionali specifici includono un avvocato esperto in diritto informatico, due esperti giuridici in procedure di appalto, due ingegneri civili, quattro geologi, un ingegnere idraulico presso il Dipartimento dell'Ambiente, un chimico, quattro ingegneri idraulici presso l'autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, due ingegneri informatici System Architect, due ingegneri informatici System Analyst e due ingegneri informatici Developer. Per partecipare è necessario seguire le istruzioni fornite sul portale INPA e assicurarsi di aderire entro la scadenza del 20 novembre 2023.